Nel comune di Salussola si propone in vendita cascinale di importante metratura. L'immobile insiste su un terreno di 10.000 metri quadrati ed è composto da due unità immobiliari con ingressi e utenze indipendenti, entrambe sviluppate su due livelli. A corredo della proprietà a cantine, locali deposito, tettoi e box, auto che può ospitare quattro automobili, oltre che ulteriori 32.500 metri quadrati di terreno nelle immediate vicinanze. Una porzione con una superficie di 145 metri quadrati. È caratterizzata dalla scelta di materiali moderni e di design, che creano un piacevole contrasto con lo stile originale, e dispone di zona giorno living, camera matrimoniale, seconda camera studio, bagno con maxidoccia. È presente la predisposizione per impianto di climatizzazione. Musica 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 l'altra porzione di 195 metri quadrati mantiene lo stile rustico e accogliente classico di un cascinale e dispone anch'essa di grande zona giorno in un unico ambiente e zona notte con tre camere da letto e bagno al piano superiore. Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail siamo sempre a tua disposizione a tua disposizione.